Real wage growth tra il 2000 e il 2022 delle nazioni del G7, a quanto pare Italia e Giappone sono quelle messe peggio, l'Italia tra il 2020 e il 2022 ha visto un decremento in termini reali, quindi dopo l'inflazione dei stipendi medi, il Giappone in realtà è leggermente positivo ma l'Italia è quella messa tra quelle messe peggio, in termini assoluti è fantastico come l'Italia stava nel pacchetto delle europee qua, nel 2000, real wage growth nelle nazioni del G7, percentuale di cambiamento tra il 2000 e il 2022, sarebbe da vedere un po' bene il dettaglio, figures are in US dollars and are adjusted for purchasing power parity, PPP, equalizing the purchasing power of different currencies and inflation to reflect 2021 prices. sì, non capisco se è il valore medio, average wage growth, ok? Average wage growth. E niente, sia in termini assoluti che in termini relativi, in termini assoluti gli Stati Uniti d'America lo stipendio medio è salito, che se ne lamentano, lo stipendio medio andrebbe anche vista la distribuzione, quindi se lo stipendio mediano è rimasto piatto ma è salito lo stipendio di Sundar Pichai, è poco rilevante, però c'è stato un aumento del 26,7% in termini inflation adjusted e misurato in dollari. Le nazioni europee essenzialmente hanno un po' fatto, hanno un po' sucato, ma sono comunque un po' cresciute. L'Italia è rimasta al palo, in dollari, c'è a dire che il dollaro dal 2000 al 2020 ha anche leggermente perso valore, per cui se misurato in euro questo numero qua è più drammatico. Trovo che sia abbastanza brutto, ho visto anche un video sul declino dell'Italia recentemente, mi spiace perché più vedo cose sull'Italia più mi deprimo. Io sono andato via dall'Italia più o meno in questo punto qua, ho venduto Italia al top, capito? Cioè io ho fatto timing the exit dall'Italia, più o meno in questo momento qui, anzi in questo, ah no, cazzo era il 2012, quindi qua, 10, 11, 12, cazzo no, no, ho venduto al bottom, è tutto un bottom qua, è un grafico in discesa, e così via. Niente, non ho grandi riflessioni da fare, se non Japan and Italy lag behind. Fa molto pensare anche il fatto che il Giappone sia flat, ma sia anche molto più povero delle altre nazioni del G7 in termini di stipendio medio. Questo è vero che lo yen è debole, però, date in vacanza in Giappone, non è che i prezzi siano proprio bassi. Però l'Italia c'è crescita, c'è crescita ragazzi, c'è crescita in Italia, c'è ricchezza, c'è ricchezza. Questo non sono uscito a trovarlo da nessun'altra parte di più ufficiale, però dovrebbe essere da qualche parte su affari e finanza e bla bla bla. Il mattone è la più grande ricchezza degli italiani, così è diviso il patrimonio delle famiglie. Il 50% più povero, la classe intermedia e il 10% più ricco. Questo qui è in miliardi di euro, quindi questi qui sono billion essenzialmente. Qui abbiamo che il 50% più povero d'Italia, cioè la metà più povera, ha un patrimonio pari a un billion. No, non ci posso credere, fate un po' di conti, scusate un secondo. Miliardi di euro, ok, un trillion. Quindi, mille miliardi di euro diviso essenzialmente la maggior parte in abitazioni. L'80% della ricchezza del 50% dei più poveri d'Italia è in abitazioni. E tanto, quello che rimane al di fuori delle abitazioni sono depositi, soldi in banca, ma tutte queste altre categorie messe assieme, depositi, obbligazioni, azioni, fondi comuni e polizze vita e ricchezza di impresa messe assieme equivalgono ai debiti, ai debiti di questa classe. Quindi il 50% più povero d'Italia ha debiti che si compensano con tutta la ricchezza, escluso le case. Farebbe zero, sarebbero zero. E poi abitazioni. Il 40% dopo, quindi quelli, diciamo, il 40% subito dopo, un po' più ricco, ok, chiamava classe ceto medio. Ancora la stragrande, il grosso della ricchezza, eccolo qua, è in abitazioni. Un po' più di liquidità. Comincia a investire un po' questo... tutto ciò che sta oltre il top 10%, è tantissima gente. Ha qualche obbligazione, azioni non pervenute, ha fondi comuni e polizze vita, quelle non mancano neanche tra i poveracci, perché la polizza, mi raccomando, ha qualche ricchezza di impresa che sarà la bottega dell'artigiano, qualcosa, diciamo, penso che sia... però è tanta roba, ricchezza di impresa. E poi abitazioni e debiti, debiti al nero. Il top 10%, che ha una ricchezza di circa 6 trillion, siamo sui 6 più 4, 10, 11 trillion, ricchezza privata italiana? Ricchezza privata italiana, 5 mila miliardi, 6 mila miliardi di attività reali, stiamo lì, stiamo lì. Mi sembra ragionevole. Anche il 10% più ricco, come cambia la distribuzione? Debiti ce ne stanno sempre, ma pesano ovviamente di più individualmente, perché qui sono 10% e 50%, sono al stesso importo, se vogliamo. Hanno della liquidità, più o meno il 10% della ricchezza in liquidità, hanno qualche... vanno in crociera con le obbligazioni, qualcuno possiede azioni, e poi fondi comuni e polizze vita, credo ci siano anche gli etf là dentro, spero, e poi la ricchezza di impresa e poi le abitazioni. Cioè pure i paperon dei paperoni la ricchezza ce l'hanno in case. Cioè il cheat è che in Svizzera le case spesso sono di proprietà di grandi enti e quindi magari entrano nei bilanci delle grandi aziende e quindi poi l'individuo è ricco perché possiede shares di queste grandi aziende, quindi magari cambia così. Però le abitazioni sono il grosso della ricchezza italiana. Il nero sommerso è incluso in quella cifra? Non credo, non credo, non credo. Ma questo è una cifra di patrimonio, il nero non esiste, cioè il patrimonio nero, i contanti sul lavoro, sugli stipendi forse intendevi, sugli stipendi è probabile, sì. Beh, senza casa di proprietà in Italia si fa fatica ad arrivare a fine mese. E tutto non significa niente, non significa niente. Ho paura che gli etf siano rappresentati da quelle piccola striscia in rosa con l'azionario. No, credo che gli etf siano rappresentati dalla parte fondi comuni e polizze vita, che al momento in Italia penso siano al 15% degli investimenti passivi verso attivi. Per cui immaginate questa parte rossa qua, un sesto di questa parte rossa sono etf. Si può ancora molto migliorare, molto molto migliorare. Grazie. 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 Grazie.